Signor Presidente e colleghi, inizia oggi uno dei semestri più delicati della vita dell'Unione Europea e al tempo stesso uno degli ultimi retti dal sistema della rotazione semestrale della Presidenza. La Convenzione Europea, che ha appena terminato i suoi lavori, ha modificato questo sistema della turnazione semestrale, sia perché esso non regge nella rotazione a 25 troppi Paesi, troppo il divario tra Paesi grandi e Paesi piccoli, ma diciamo con franchezza anche per l'effetto millefoglie, lo chiamerei, cioè ciascuno che ha l'ambizione a lasciare una propria impronta, un proprio marchio, lasciando in eredità spesso dossier incompiuti e non riuscendo a terminare quelli ricevuti in eredità. Ma questo, al di là del sistema che ho appena descritto, è un semestre, in realtà come tutti i secondi semestri, cioè la seconda parte dell'anno, assai più breve, quattro mesi e mezzo. Dicevo, è un semestre oggettivamente strategico, perché è il primo dopo il conflitto iracheno e quindi è il primo che affronta in un tempo compiuto le relazioni aeroatlantiche da ricuscire e da reimpostare, perché è il semestre nel quale si svolgerà l'avvio della conferenza intergovernativa e perché è l'ultimo che precede le elezioni europee che si terranno con la nuova famiglia, diciamo con un allargamento a 25 membri. Ma per le cose dette dobbiamo essere misurati nella definizione dell'agenda per non allargare quello scarto che esiste in ogni Paese, che è sempre esistito in ogni Paese, fra la retorica del semestre e le possibilità reali che ogni Presidenza può esprimere. L'Italia, se lo ricordo il Governo, ha in questo senso però una brillante storia alle spalle. Senza andare troppo lontani, rimaniamo soltanto alle ultime tre Presidenze, che è già un arco sufficientemente ampio. Alla metà degli anni Ottanta la Presidenza italiana fu decisiva per varare quell'atto che ha sancito la riaccelerazione del processo comunitario, cioè l'atto unico europeo. Nel Novanta fu decisiva la Presidenza italiana a dare impulso all'Unione economica e monetaria e devo dire che perfino in un tempo oggettivamente difficile, come il 1995, in cui il nostro Paese era sorvegliato speciale nel suo cammino di avvicinamento verso l'euro, riuscimmo a passare positivamente quell'esame. Sono queste le ragioni per le quali l'opposizione dice da sei mesi che questo appuntamento era strategico, perché essa voleva capire l'impostazione dell'agenda italiana e voleva contribuire alla sua definizione e al suo consolidamento. Giovedì scorso, invece, il Presidente del Consiglio ha svolto una comunicazione a due tempi e a due toni. La prima parte interna, dove attaccando l'opposizione ha cercato così di risaldare la sua maggioranza, e una seconda parte sull'Europa che onestamente dovremmo giudicare neutra, nella misura in cui la comunicazione del Presidente del Consiglio ha elencato obiettivi tanto condivisibili quanto generici. Cito ciò che mi sembra più significativo. Dice Berlusconi giovedì scorso, non ci scoraggiano queste difficoltà dal perseguire il traguardo di una conferenza intergovernativa, di alto profilo e di elevati obiettivi. Contiamo di aprirla nel corso del mese di ottobre, con la speranza di pervenire alla conclusione dei lavori, come ho ricordato, entro la fine dell'anno. Così da firmare a Roma, dove nacque l'Europa cinquant'anni fa, il secondo trattato di Roma. Credo che questo rappresenti un successo di tutto il Paese. Applausi dei deputati, bla bla bla. Qual è l'obiettivo, colleghi? È la firma? Qual è l'obiettivo nel merito, colleghi? Cosa sono questi elevati obiettivi e questo alto profilo, di cui non c'è traccia in termini di contenuto nel resto della comunicazione del Presidente del Consiglio? Nella giornata di ieri il Presidente del Consiglio ha avuto un'altra esternazione, con le consuete reazioni della stampa interna ed internazionale. Allora, io vorrei dire con molta franchezza, a nome della Margherita, noi siamo interessati al semestre europeo e al suo successo, anche perché il semestre non è il semestre di Berlusconi. È il semestre della Presidenza italiana, quindi anche in qualche modo di ciascuno di noi. Non può essere privatizzata il semestre di Presidenza italiana. E non siamo contenti, come italiani, se c'è una campagna di stampa, un insieme di commenti non orchestrati e non orchestrabili, stante la diversità dei settimanali e dei quotidiani che si sono pronunciati in questi giorni, sollevando domande, dubbi, ironie. Ma dico e chiedo al Governo e ai colleghi della maggioranza. Esiste una risposta a tutto ciò che sia più matura della tese del complotto? Interessa a qualcuno della maggioranza capire, spiegare, analizzare, comprendere cosa e perché tutto questo sta accadendo? Voi siete davvero convinti che ci sia una pericolosa infiltrazione sovversiva e antinazionale anche nel sindacato dei diplomatici, che oggi rappresenta più dell'80% delle nostre feluche e che oggi è per la prima volta dopo un tempo immemorabile in sciopero e distribuisce davanti alla farnesina fichi secchi per segnare il fatto che questa Presidenza comincia avendo la metà delle risorse disponibili per le precedenti Presidenze. Vedete, colleghi, la diplomazia non è e non può essere l'estensione dei rapporti personali del Presidente del Consiglio. È qualcosa di diverso. E allora questa è la riflessione che noi volevamo affrontare anche insieme alla maggioranza. Cosa vuol dire Europa, questo è lo slogan del semestre, cittadini di un sogno comune. Ora, lo sanno bene i cultori dello spettacolo e del cinema, i sogni finiscono all'alba e l'Europa che noi vogliamo definire insieme a voi deve andare oltre le formule e occuparsi del nocciolo, della sostanza delle questioni. Perché il tema per chi presiede oggi la Presidenza di questo semestre è saper tenere le posizioni e saper esercitare le funzioni e le responsabilità senza improvvisazioni. È questo che oggi ci viene rimproverato e lo sappiamo tutti. Noi abbiamo una sola bussola, lo ripetiamo da tanto tempo. Il massimo dell'interesse nazionale coincide con il massimo dell'interazione europea. Non c'è il tempo per argomentarlo, ma questa sarebbe la continuità sulla quale anche l'opposizione sarebbe potuta convergere in uno sforzo bipartisan, per andare ad alcune sintetiche indicazioni di contenuto che sono riprese nella risoluzione dell'opposizione. Diceva Metternich che le Costituzioni per funzionare devono essere corte e ambigue. In realtà la Convenzione ci consegna una Costituzione lunga, ambigua soltanto in alcune parti. Noi diciamo rispetto alla conferenza intergovernativa, riprendendo il famoso obiettivo di Berlusconi, l'importante è firmare, che non ci basta. Noi diciamo innanzitutto, come ha richiamato una volta il Presidente Ciampi, non arretriamo. Consideriamo il risultato della Convenzione il risultato minimo. Capiamo il rischio di aprire il vaso di Pandora e diciamo al Governo che, se serve, sarebbe anche il caso di riconvocare magari il Presidium o la Presidenza della Convenzione per supportare lo sforzo della conferenza intergovernativa. È stata, ci pare, un po' precipitosamente liquidata a Salonicco il Presidium e la Presidenza della Convenzione che, in caso di arretramento, potrebbe essere sempre utile. Si ricordi il Governo di ciò che dice da mesi l'Eurobarometro. Non è più tempo in cui chi tratta diplomaticamente e politicamente un trattato può dire che le nostre opinioni pubbliche non ci seguirebbero. Per la prima volta dopo molti anni le opinioni pubbliche dell'intera Europa sostengono con maggioranze schiaccianti un di più di Europa. Dunque non c'è questo alibi anche per chi presiede una delicata conferenza intergovernativa. Ma noi sappiamo che non basta firmare. Se è possibile, il Governo, gli abbiamo chiesto questo nella nostra risoluzione, Ministro Frattini, non si impegna al risultato ma si impegna almeno allo sforzo di superare quei punti che sono stati da molte parti ritenuti migliorabili. Penso al tema della doppia Presidenza, che almeno in un medio termine potrebbe essere superato con una Presidenza unica dell'Unione in capo alla Commissione. Penso alla struttura della Commissione. Penso a ciò che autorevolmente ha richiamato ancora una volta il Capo dello Stato, il superamento dell'unanimità. E penso infine alle cosiddette clausole evolutive. Noi abbiamo avuto la Convenzione, ha avuto l'ambizione di scrivere un trattato compiuto che sappiamo essere perfettibile. Ma nel momento in cui le sue modifiche ripassano da una nuova conferenza intergovernativa a 25 con unanimità, noi rischiamo di aver scritto una camicia di forza e non di aver usato quel metodo che brillantemente negli anni 90 ci ha permesso ogni volta, quando eravamo in difficoltà, di rilanciare la palla in avanti. Questo per quanto riguarda la conferenza intergovernativa. Per quanto riguarda la politica estera, i due punti che il Presidente Berlusconi ha sottolineato nel suo intervento. Medio Oriente, guardi, poche parole. Noi sosteniamo fermamente e senza improvvisazioni la roadmap. Questo però significa che si incontrano tutti gli interlocutori e non soltanto qualcuno. Questo significa che quando la Presidenza dell'Unione incontrerà gli interlocutori, li incontrerà a nome dell'Europa e non a nome del Presidente degli Stati Uniti. E se arriveremo alla firma di qualche cosa a Roma saremo tutti lieti. Ma in questi sei mesi è importante consolidare la roadmap dando prova di quella imparzialità, neutralità e fermezza su cui l'Europa ha costruito negli ultimi anni la propria unità e la propria credibilità. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, signor Ministro, non ci sono scadenze speciali. Ma noi sosteniamo lo sforzo di riallacciare il rapporto non fra due Presidenti, ma fra due comunità, la comunità europea e la comunità atlantica nel suo insieme più ampio e di farlo nel rilancio delle istituzioni multilaterali. Abbiamo aggiunto a questo, abbiamo ascoltato tre ulteriori e brevissime priorità, signor Presidente. Il Mediterraneo, sia la banca, sia la fondazione, ma guardi, sia lo spazio politico europeo, perché questa è l'ultima delle presidenze semestrali ed è l'ultima della tripletta mediterranea dopo Spagna e Grecia. Non ci saranno più occasioni per rinforzare questo spazio mediterraneo. Sì al cammino per le nuove adesioni, bene sui Balcani, lasciamo perdere ogni dissertazione improvvisata sulla Russia e nuove membership su cui l'Unione si è già pronunciata. Sì a nuove iniziative sulla crescita, però intendiamoci su un'ultima cosa, il metodo. L'Europa è un'opportunità o è una purga? Sto concludendo, signor Presidente. L'Europa è un'opportunità o una purga? Ci interessa sviluppare lo spazio economico e lo sociale europeo soltanto quando dobbiamo superare un vincolo nazionale o perché riteniamo che bisogna andare oltre? Ecco, queste sono le cose e con questo budget magari. Noi saremmo stati disponibili se il Governo avesse dato una diversa disponibilità. Rescita lo slogan «Cittadini di un sogno comune». Noi speriamo di non vivere in questi sei mesi un incubo. I fatti, dice Berlusconi, guardiamo i fatti. I fatti ci dicono che oggi questo Paese ha un problema di affidabilità. Noi non possiamo dare il credito che ci è stato richiesto ma sosteniamo con tutto il nostro sforzo il successo del nostro Paese in questo difficile e delicatissimo semestre di Presidenza.